La tragedia non ferma altri sbarchi. Il giorno dopo il naufragio che ha portato ad almeno sette morti, un altro barcone con a bordo 63 migranti è stato soccorso questa notte al limite delle acque nazionali dalla moto vedetta CP 312 della Guardia Costiera. Nel gruppo di persone provenienti da Egitto, Eritrea, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea e Ghana, anche due donne. L'imbarcazione che è partita dalla Libia è stata lasciata alla deriva e tutti i migranti dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati portati all'hot spot di Lampedusa dove gli ospiti sono arrivati complessivamente al numero di 644. La prefettura di Egrigento ha disposto il trasferimento con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porta Empedocle di 100 migranti ospiti dell'hot spot di Lampedusa. Ieri con le due motonavi di linea erano stati invece trasferiti altri 180 nel complesso. Intanto per tutta la notte sono andate avanti con le moto vedette della Guardia Costiera, dei carabinieri della Guardia di Finanza, le ricerche fra Lampedusa e l'isolotto di Lampione dei nove dispersi dopo il naufragio di ieri e non è stato ancora disposto il trasferimento delle sette salme, tutte di donne recuperate in mare. Spetta infatti alla prefettura, dopo il nulla osta al seppellimento da parte della procura, individuare la località dove dovranno essere tumulate le bare. Ho visto le mie due sorelle sparire in mare, ha raccontato un operatore di Medici Senza Frontiere, una donna della costa d'Avorio di circa 40 anni, subito dopo il naufragio. Volevo solo essere me stesso, per quello sono partito, ma per noi non c'è altra alternativa al mare, anche se sai che rischi di non farcela, ha aggiunto un uomo di 26 anni del Camerun. Grazie a tutti.